dunque oggi vi parlo di una delle ultime action cam uscite su amazon per quanto riguarda la db power e sto parlando della ex7000 pro 4k che è un action cam dotato touchscreen infatti il display è assolutamente taccio quindi possiamo regolare le varie impostazioni direttamente dal display in maniera molto semplice se dovessimo avere problemi è presente anche il manuale in lingua italiana in realtà ha molti lingue ma ovviamente hanno interesse all'italiano che è presente ci sono inoltre una serie di accessori questa è la confezione non so se riesco ad inquadrare tutto comunque è la confezione della db power una confezione completamente nera all'interno c'erano i vari accessori che sono arrivati imbustati singolarmente e sono davvero soddisfatta degli accessori presenti perché ci sono innanzitutto c'è la batteria ci sono due batterie una ovviamente è all'interno del dispositivo l'altra è questa poi c'è ci sono vari accessori tra i più utili posso citarvi questo che lo scafandolo praticamente ci permette un immersione subacquea fino a 30 metri sotto l'acqua e poi ci sono anche i vari agganci per montarla sui 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 sul casco e insomma per utilizzarla nelle nostre negli sport estremi perché no appunto possiamo caricarla direttamente attaccando il cavetto al computer oppure con inserendo una delle batterie nella dog station e poi piazzando il cavetto ovviamente è una action cam dotata del sensore sony da 16 megapixel e possiamo girare i video in 4k una action cam molto bella anche esteticamente anche grazie ai ai bo al bordo sottile che consente una visione assolutamente migliore rispetto a quello che potremmo avere con altre action cam di questa fascia di prezzo e ovviamente essendo moderna ha anche l'attacco per la gopro quindi è un obiettivo grandangolare da 170 gradi come diceva appunto è comprensiva di vari accessori e non è molto pesante in modo piuttosto leggera possiamo tranquillamente portarla in giro ovviamente le foto possono essere scattate anche all'interno della custodia parliamo delle foto subacquee perché come dicevo ha un'impermeabilità che raggiunge i 30 metri sotto l'acqua quindi per chi ama le immersioni è il top e quindi dunque questa è questi sono i vari accessori presenti vi faccio giusto vedere i fondamentali appunto che sono questi e quindi prima di di lasciarvi con le immagini il video che ho girato utilizzando questa action cam ex 7000 pro vi dico che comunque è una secondo me una delle più valide che io mi che mi è capitato di provare in questi mesi perché sicuramente anche il fatto che sia touch rappresenta un valore aggiunto infatti è molto più comoda a mio avviso rispetto a una action cam classica e poi è davvero davvero i video che ho realizzato sono venuti fuori molto bene poi vi faccio vedere appunto vi attacco le riprese che ho realizzato con questa action cam alla prossima grazie a tutti 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 grazie a tutti